Bene a tutti, sono i miei sognanti, oggi facciamo il contorno così per la prossima volta quando facciamo il secondo abbiamo il contorno, facciamo il contorno la porretta, tutto super, facciamo la porretta si bolliscono le patate belle cotte e si passano nella pasta di pomodoro oppure ne lo scaccia di patate se ce l'avete. Così si aggiunge un pezzettino di burro nella porretta, così, un pezzettino di burro, un pezzettino di burro, un po' di sale, un po' di sale, così, un po' di sale e un po' di pepe, un po' di pepe, ora usciamo il suo pepe perché manco si trova male. ora usciamo il cocco, un po' di pepe, così, dopo un po' di noce moscata, noce moscata, noce pesca, noce moscata, così, un po' di noce moscata e dopo di che un po' di latte, latte deve essere caldo, se no viene con l'arume, un po' di latte deve essere caldo, se no viene con l'arume, latte caldo così, a poco alla volta perché non deve essere né troppo densa e né di troppo dura. E mescoliamo così. Mescoliamo. Ecco qua. E dopo di che, per riscaldarla, la dobbiamo mettere al bagno maria. Così. Ora che prendiamo un acciapento, fai soda. E allora, abbiamo messo le patate al bagno maria. Abbiamo messo bullo, sale, pepe e noce moscata. Adesso ci mettiamo un po' di formaggio e aspettiamo che si riscaldiamo che si riscaldiamo, che si scioglie il burro. Questo è un contorno che lo potete fare per Natale. pure. Tutto super. Ecco qua. appartiamo che sia caldo. In questo tempo saluto io i ragazzi che ho incontrato per strada, che mi hanno salutato, su Ignazio qua, su Ignazio qua, su Ignazio là, Francesco Pellegrini e gli amici, che non mi ricordano di no. Poi io che saluto il Signor Alleluia, che lo salutiamo sempre. Poi il Signor Attilo Sando, il Signor Sergio, che bisogna precisare il seggio del corso con la traferme, che sono contento quando chiede le saluto. e basta, io non mi ricordo tutti i nomi, quelli che scrivono dall'estero, dal nord, dalla Sicilia, che mi dispiace che non posso salutare a tutti. perché non si può fare ogni femmino di saluto, anche tanto uno saluta. In particolare, il Signor Sergio, quando si dice Sergio del corso con la traferme. ecco qua, adesso la potrei, è pronta, la potrei adesso, è pronta, bella calda, così, per essere bella liscia, prendiamo il fuoco, per scendere, così. Ora io che voglio dire, la potrei fare a colore, basta che frullate un po' di spinaci, o un po' di peselli, il mixer, e mischiate così, mischiate, tanto per colorarlo, così, e viene verde, così. Mischiate un pochettino, e questo è uno, questo è uno, prendendo il piatto, ben impiattato, se poi avete un sacco a pocho, un sacco a pocho, come si chiamano, non so, pocho a pocho, come un sacco, e la mettete dentro, così, così, e la mettete nel piatto, come il contone, così, che è per uscire l'aria, adesso ho un pochettino caldo, così, così, eccoci, poi, se lavorate per la rossa, qua, fate lo stesso lavoro, prendete, un po' di pochettino, una cucchiazza, ecco, un po' di pochettino, così, e così, potete fare la rossa, in questo caso, mettete, un po' di pomodoro, qua, sassa di pomodoro, mescolate come quello, così, ecco qua, così, ecco qua, così, si mette sempre nel sacco a pocho, sacco a pocho, non lo so io, comunque, così, due, e tre, e prendete la forbicione, e si taglia, la punta, così, e si fa uscire, fa uscire l'aria, così, e si mette nel piatto, così, ecco qua, così, ecco qua, così, ha uscire, un pochettino, e un'altra, la facete la scena in bianco, così, la scena in bianco, così, e questo è un contorno per Natale, questo si può mettere sia nell'arrosso, sia nel brasato, sia nel bianco, sia nel bianco, sia nel bianco, sia nel bianco, sia nelle bianco, dopo lo vado a mettere, lo mettete, ora noi, proviamo a fare la presentazione, a questo punto, il contorno, è pronto, è fissato, per il momento, osserviamo così, perché i bambini lo possono mangiare pure così, che ci piacciono le patate, questo è un contorno per Natale, assieme all'arrosso, assieme al polo, il tacchino, quello che fate, questo può essere un contorno, a questo punto, vi saluto a tutti, lo sognazio, e ci vediamo alla prossima, per il ragazzo!